Ciao! Oggi ti insegno come prendere l'autobus. Ricordati innanzitutto che devi acquistare il biglietto e che per fermare il pullman ti basta un semplice gesto al conducente. È importante salire sempre dalla porta anteriore e mi raccomando, dopo aver timbrato il biglietto, conservalo fino alla fine della corsa. Ovviamente, prima mostra il titolo di viaggio al conducente. Adesso puoi rilassarti sui sedili. Nel caso non ci sia posto, assicurati di reggerti alle maniglie. Per prenotare la fermata ti basta semplicemente premere un pulsante. Non dimenticare di scendere dalla porta sul retro.